Treccani.it è uno dei più ampi e prestigiosi siti web italiani dedicato all'enciclopedia Treccani. Offre un'enorme quantità di contenuti riguardanti arte, scienza, storia, letteratura e molte altre discipline. L'interfaccia e l'organizzazione dei contenuti sono punti di forza evidenti, consentendo agli utenti di navigare facilmente tra le varie sezioni del sito. Inoltre il sito offre la possibilità di effettuare ricerche approfondite all'interno dell'enciclopedia, garantendo informazioni accurate e affidabili. Ulteriori informazioni nell'info box di questo video.